Mentre si avvia a conclusione la fase vaccinale per personale sanitario e sociosanitario, operatori ospiti dell'RSA, medici di base, pediatri di famiglia e soccorritori, definite dalla regione le prossime categorie alle quali verrà somministrato il vaccino per la cosiddetta fase 1 bis. Si tratta di personale delle residenze psichiatriche, centri diurni, assistenza domiciliare, farmacisti, dentisti o dontoiatri e personale della sanità militare, polizia di stato, ambulatori accreditati, medici liberi professionisti, informatori scientifici. L'annuncio oggi da parte dell'assessore regionale al welfare Letizia Moratti nel suo intervento in consiglio regionale. È in corso, ha precisato Moratti, una ricognizione in vista delle nuove somministrazioni sempre su base volontaria. L'avvio della fase 2, cosiddetta massiva, a partire dal 25-28 febbraio con il vaccino AstraZeneca, prosegue Moratti, prevede la somministrazione delle dosi da parte di personale degli ospedali, medici di base, farmacisti, con una destinazione prioritaria a persone con plurimorbilità e gravi immunodeficienze, categorie che hanno fatto registrare la mortalità più alta e la maggior pressione sugli ospedali. Tra i target prioritari rientrano poi gli insegnanti, partendo da quelli obbligati a fare lezioni in presenza, forze dell'ordine, personale dei tribunali e del trasporto pubblico locale. Allargando il campo alla fascia a 60-79 anni, l'assessore Moratti ha precisato che molto dipenderà dalle consegne di vaccino che verranno effettuate. Per questo ha chiesto al governo di avere un piano di approvvigionamento a medio termine. La stessa precisazione è stata chiesta dall'assessore anche in merito all'invio dei medici. A febbraio in Lombardia ne dovrebbero arrivare 650 e altri 2.500 nei mesi estivi. Nei prossimi giorni, conclude la Regione, verranno forniti tutti i dettagli sulle procedure di adesione, prenotazione e dentro due settimane sarà attivato un portale ad hoc.